Il Comitato Mediterraneo Notriv Ionio continua a chiedere agli organi competenti in materia di controlli ambientali delucidazioni in merito allo stato di salute delle falde acquifere pertinenti all'area dell'ITREC di Rotondella. Secondo il Comitato Notriv sarebbero nelle acque presenti tracce di idrocarburi. Abbiamo ascoltato Felice Sant'Arcangelo. Ma possiamo parlare di monitoraggio ambientale anno zero a Policoro e nei dintorni? Perché parliamo di monitoraggio anno zero? Parliamo di monitoraggio anno zero perché in questo comune, che è un comune di 15.000 abitanti, non è mai esistita una centralina di monitoraggio dell'aria. Ne sono stati mai avviati controlli sulle falde acquifere. Falda acquifera che è unica nel metà pontino, che parte da Nuova Siri e arriva a metà ponto. È un'unica falda idrica di profondità che escluda inquinanti dovuti a presenze esterne. Noi abbiamo sollecitato la questione già dall'epoca della trivelazione del Pozzo Morano, già nel 2010, ma da allora monitoraggi sul territorio non sono stati fatti da nessun punto di vista. Ma voi come Mediterraneo Notrive l'avete comunque più volte richiesto e formalizzato anche per iscritto? Certamente, noi abbiamo sempre richiesto per iscritto regione, comune, a mezzo stampa, di monitorare le falde acquifere. I motivi per cui adesso è importante farli ci sono e sono quei casi che già si sono verificati di inquinamento sull'ITREC di Rotondella, nel recinto dell'ITREC, dove hanno trovato idrocarburi, metalli pesanti e crome savalente. C'è stato un tavolo della trasparenza dove si è discusso anche di questo inquinamento e dovrebbero partire dei monitoraggi limitati al centro ITREC e a quella zona. Noi vogliamo che questi monitoraggi siano estesi a tutta la fascia costiera, ai comuni di Novasiri, Policoro, Rotondella e semmai anche Scanzano, proprio per questo motivo per cui la falda è unica. C'è stato anche un altro caso di inquinamento riscontrato della falda. L'associazione Cova Contra ha fatto un'analisi di un pozzo, vicino a un pozzo petrolifero dismesso nella zona della Val d'Agri e ha trovato un manganese superiore per 43 volte. Questi sono tutti indizi per far sì che finalmente questo monitoraggio delle acque venga fatto per tutelare la salute dei cittadini. Non dimentichiamo che l'acqua è l'oro, non neanche il petrolio, la materia prima per lo sviluppo agricolo, turistico del territorio e anche per quanto riguarda l'agra alimentare. Con l'acqua della sinica, diciamo della zona sinica, dove ci sono opportuni depuratori, vengono prodotti anche su gelati e succhi di frutta. Ascolti, ma se qui nel metà pontino non ci sono pozzi di estrazione petrolifere, com'è possibile la presenza di idrocarburi nelle falde acquifere pertinenti all'area dell'ITREC? Non è che non ci sono pozzi petrolifere, ci sono pozzi per il gas, sono sempre idrocarburi. Il gas è più leggero del greggio da un punto di vista chimico-fisico, ma questo non esclude che possono avere influenza sulle falde, sia nella fase di trivellazione che anche nella fase di estrazione. Però non è detto che siano i pozzi, possono essere altre cause, per cui va indagato, va fatto un monitoraggio su tutte le falde per capire questo inquinamento, da dove proviene. Se fosse avvenuto già da quando l'abbiamo chiesto al 2010, questi problemi forse adesso non ci sarebbero. Sapremmo già da dove provengono questi inquinanti e qual è la loro causa. Però per noi l'acqua è prioritaria, il nostro oro. Dall'acqua abbiamo un'agricoltura fiorente che fa reddito per tutto il territorio e tutte le protezioni collegate all'agricoltura. Per noi l'acqua è ricchezza, per cui noi dobbiamo salvaguardare la nostra falda idrica sotterranea e dare risposte ai cittadini. Ripeto, siamo all'anno zero sui monitoraggi in questa fascia ionica.